in questo preciso momento state assistendo ad una battuta di caccia alla beccaccia in cui sono impiegati due pegnol breton un vecchio specialista pieno di acciacchi e avviato sul viale del tramonto ed il giovane impetuoso che avete già incontrato in precedenti episodi è una radiosa giornata di dicembre e con bepi l'accompagnatore complice delle mie ultime sortite in croazia dopo una rapida strategia d'intesa ci apprestiamo a sondare le migliori tappe della zona a quanti mi chiedono quale sia a parer mio il cane da ferma migliore per la caccia alla beccaccia devo confessare che non ho preclusioni per alcuna rassa poiché ho avuto e ho tuttora la fortuna di cacciare per mestiere veri selvatici con autentici cani da caccia non me la sento di inquinare le sequenze filmate con accademiche disquisizioni che non mi competono specialmente quando vi è da sciorinare dati sull'origine della rassa e la conformazione della specie permettetemi dunque di ricondurvi alla cronaca del giorno osservando con voi l'apparente torpore che prelude alle giornate fiacche e spente quelle in cui non si vede in giro l'ombra di un migratore e ciò fino a quando il vecchio marpione brettone non compie uno dei suoi tipici affondi per andare a chiudere lontano l'iperbole della sua innesima imprevedibile intuizione l' oro l' melancholata l' 망pore l'euro l'olio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Porta, porta, porta. Porta, porta, porta. Vieni, porta, porta. Signor Beppi? Congrativazioni. Vieni. Aspetta, che guarda se c'è un sacchetto. Da giù, dimmi. Aspetta, che guarda se c'è un sacchetto. Nella caccia alla beccaccia, l'analisi dei particolari è determinante per formulare strategie di indagini ulteriori. Ad ogni buon conto, il cane beccacciaio si distingue dal generico ausiliare soprattutto perché il primo trae conclusioni da un indizio olfattivo, mentre il secondo vi si confonde per eccesso di emozione. Aspetta, che guarda se c'è un sacchetto. C'è un sacchetto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.